Alla scoperta dei candidati al Consiglio regionale pugliese. Siamo con Piero Bitetti, candidato con Italia in Comune, a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. Intanto Bitetti una presentazione, chi è Piero Bitetti anche se conosciutissimo, e poi le ragioni della sua candidatura in Regione. Ben trovati. Piero Bitetti è il componente di una squadra, una squadra che vuole portare esperienza e competenza in Regione, una squadra che lavora per recuperare le delusioni dei cittadini, una squadra che vuole promuovere nuovamente la politica come tema nobile. La politica si occupa delle nostre sorti quotidianamente. Ed è giusto che i cittadini seguano, si informino, seguano i programmi, le idee, i confronti, per capire quale può essere il miglior rappresentante per loro. Noi ci candidiamo perché vogliamo recuperare la fiducia dei cittadini. Perché il sostegno a Michele Emiliano? Innanzitutto per un'appartenenza di schieramento. Il nostro partito, che voglio ricordare non essere una lista, lo ricordo a me sesto, le liste sono dei bus, dei veicoli dove i candidati vengono eletti e dopo si sciolgono il giorno dopo il risultato dei voti. Il nostro è un partito, un partito fatto da amministratori, ex prefetti, ex sindaci, sindaci, consiglieri comunali, assessori, amministratori che conoscono come funziona la cosa pubblica, che sanno come fare per risolvere i problemi e da subito. Non hanno bisogno di fare tirocini formativi, ma sono già formati e pronti a dare risposte ai cittadini. Emiliano perché vogliamo dare continuità per completare quei processi per raggiungere gli obiettivi che i tempi della politica impongono. Anche qui siamo impegnati a snellire le procedure amministrative, le procedure normative, una regione legifera. La preparazione è fondamentale, ma anche quelle che sono le mete da raggiungere, affinché si possano raggiungere nel più breve tempo possibile i fini di dare le risposte concrete che i cittadini meritano.